è vero anche che in questa carrellata di interviste dobbiamo sottolineare come per la prima volta alcune delle più importanti organizzazioni di service che operano nel mondo sono tutte insieme insieme appunto per regalare un qualcosa in più a chi ha qualcosa di meno tra questi svetta senz'altro italide abbiamo il piacere di avere con noi giampiero stancati che è il segretario generale di italide e non è la prima volta che italide sposa iniziative come questa siamo qui come associazione associazione culturale di cultura politica in senso ampio per rappresentare appunto la partecipazione della nostra associazione a un evento socialmente molto utile riteniamo che supportare diciamo queste due associazioni benefiche che si aggregano all'ospedale bambin gesù che è un'eccellenza della sanità italiana ma non soltanto della sanità è un'eccellenza proprio nel mondo della della del sociale rivolto in particolare a questo questo vastissimo pubblico di bambini che suscita in tutti quanti i migliori sentimenti diciamo anche proprio nello specifico che cosa fa italide ma soprattutto che cosa farà perché so che in calendario ci sono degli appuntamenti a breve scadenza qualcuno anche un po più in là però sono premi importanti sono manifestazioni iniziative importanti quindi ricordiamole agli amici di liberi.tv sì vero che siamo qui appunto per partecipare alla solidarietà però italide è una sorta di centro studi è un'associazione che fa cultura soprattutto che affronta dei temi a maggior impatto sociale ed economico fra gli impegni in calendario i più più vicini ce ne abbiamo uno in scadenza prossima nel martedì 31 di marzo ospite del del senato abbiamo un convegno interessante sulla filiazione quindi un convegno di natura giuridica piuttosto importante poi stiamo cercando di organizzare un altro importante convegno sullo sport con il patrocinio del coni per cercare di aprire anche una un'ulteriore prospettiva ai nostri giovani attraverso lo sport quindi di poter poter studiare dei percorsi di formazione particolari e poi ricordiamo in luglio sicuramente la scadenza rituale del premio curos dove si premiano delle eccellenze sotto l'aspetto professionale culturale sociale per cui insomma italide è viva e continua nella sua attività e compassione e quindi volendo volendo sempre diciamo sfidare obiettivi sempre più più importante